Tu hai parlato prima del mondo imprenditoriale, noi abbiamo registrato un po' di malessere comunque di questo mondo, da parte soprattutto della Confindustria, qual è la tua proposta per recuperare il rapporto con la Confindustria e mettere a punto dei progetti in grado di ridare ossigeno al tessuto produttivo e all'occupazione? Qualche volta mi verrebbe voglia di mettere la tassa sul lamento dei ricchi, perché i ricchi sono bravissimi a lamentarsi, si lamentano molto più dei poveri, la Confindustria in Puglia ha avuto un pacchetto anticrisi che non ha paragoni in nessuna regione d'Italia, noi abbiamo messo 800 milioni di Euro a disposizione del sistema di impresa per superare le straordinarie difficoltà di questa crisi economica e la Confindustria di Puglia sa benissimo che il governo Fitto Berlusconi ci ha messo ogni giorno il bastone tra le ruote, noi abbiamo ancora in cassaforte a Roma 3 miliardi di Euro, più di 3 miliardi di Euro della regione Puglia che vengono tenuti chiusi, congelati per impedire al Presidente Vendola di aprire nuovi cantieri, perché se apre nuovi cantieri si fa un po' di propaganda elettorale, ma è una logica berrante, Confindustria sa bene, chi ha penalizzato la Puglia? Confindustria talvolta si lamenta perché noi alle imprese che inquinano non abbiamo fatto sconti e io persino alla più grande impresa dell'Europa che sta in Puglia e che fa acciaio ho detto ora dovete spendere una parte dei soldi che guadagnate per ambientalizzare i vostri apparati produttivi. Io penso che il mondo imprenditoriale sia contento della relazione che ha con la regione Puglia. Qualche voce un po' più politicizzata magari cerca di polemizzare talvolta in maniera un po' artificiosa, ma io credo che la relazione che abbiamo avuto in questi anni penso al settore delle costruzioni, ai costruttori, oggi la regione Puglia ha un assessorato all'urbanistica e al governo del territorio che non è una palude, che non è una fogna, che ha tempi certi, che ha detto ai costruttori invece di arricchirvi con la speculazione e con l'abusivismo e magari con il collateralismo con la politica, arricchitevi con i nostri progetti di riqualificazione delle periferie. Noi cosa abbiamo detto agli imprenditori? Facciamo che mettiamo insieme la ricchezza vostra, privata, e la ricchezza pubblica. Si può costruire bene facendo star bene gli abitanti oppure vi dovete arricchire costruendo case dove ci piove dentro? Questa è la differenza tra noi e quelli che c'erano prima? A questo proposito io ti devo lasciare, non la leggo, una lettera di un artista che lavora su questi discorsi che aveva parlato con Angela Barbanente, il tuo assessore all'urbanistica e te la lascio, poi te la leggi, perché loro sapevano che ti avrei intervistato e quindi mi hanno dato questa lettera da darti. Tu hai parlato prima della pregheria, la regia di mandare quello spot sull'eolico, perché è stato uno degli altri argomenti forti di questa amministrazione. La regione Puglia in questi 5 anni ha fatto della produzione di energia da fonti rinnovabili la sua battaglia, una battaglia vincente se prendiamo in considerazione il primato in Italia della Puglia, però c'è il rovescio della medaglia, non ritieni che si è esagerato nell'aprire le porte a chiunque con un accumulo di richieste di impianti per 35 mila MW, un monte energetico da alimentare in mezzo Italia, sotto questo aspetto qual è la soluzione? Intanto le richieste sono soltanto indicative del fatto che il mondo sa che la Puglia ha l'ambizione di diventare uno dei parchi di energia rinnovabili più interessanti d'Europa e quindi le richieste non significa che noi non abbiamo un limite oltre il quale non è possibile far crescere i nostri parchi, noi possiamo immaginare di raggiungere quota 3000 MW nell'eolico per esempio, possiamo immaginare con questa modalità di costruzione dell'eolico, stiamo sperimentando l'eolico offshore che significa l'eolico a mare e poi nel futuro noi dobbiamo immaginare che sul fotovoltaico piuttosto che occupare suolo agricolo per fare le centrali fotovoltaiche, si tratta soprattutto di coprire gli edifici pubblici, i capannoni industriali, per esempio le aree di parcheggio, tutto lo spazio inutilizzato che oggi può essere effettivamente coperto perché i pannelli fotovoltaici, fra le altre cose, sono ormai a un livello anche di design urbano straordinario, poi ci sono le prospettive nuove, per esempio la sperimentazione del KateGen che è l'aquilone che è capace di, è una sperimentazione fatta con l'università, che è capace di intercettare contemporaneamente energia del sole ed energia del vento, poi si tratta di far partire le pompe ad idrogeno verde e di cominciare in alcune città pugliesi per esempio a fare quello che è cominciato in California, la sperimentazione di idrogeno verde come carburante per il trasporto urbano, poi si tratta di immaginare l'efficientamento energetico, dicevo prima cambiare tutto il parco della pubblica illuminazione in Puglia, ma si tratta di un colpo straordinario, poi si tratta di aprire un contenzioso con il governo centrale, perché la Puglia di oggi regala all'Italia l'87% di tutta l'energia che produce, noi siamo talmente solidali nei confronti del resto d'Italia che sulle nostre spalle ci facciamo carico di una quota rilevante di produzione energetica nazionale, ci dovete pagare, ma che pensano? Ci dovete da un lato abbassare, dire all'Enel che non si può più continuare con tutto il carbone che bruciano a Brindisi e a Cerano perché quel carbone in attesa del mitico carbone pulito nel frattempo porta polveri inquinanti e morte nei polmoni dei Brindisini e dei Salentini, ma poi noi vogliamo essere remunerati, io penso che se regaliamo tanta energia all'Italia noi abbiamo diritto per i nostri cittadini e anche per le nostre imprese a una riduzione della bolletta energetica, era cominciato un discorso di questo tipo con il governo Prodi, ma dopo con il governo Berlusconi forse non abbiamo interlocutori adeguati a Roma. Andiamo sull'altro argomento importante, quello della sanità, che è un comparto sul quale si sono appuntate delle critiche dell'opposizione, l'attenzione della magistratura, tu hai risposto con una videolettra che noi avevamo anche come filmato, poi se sarà il caso la manderemo. Nel panorama dell'assistenza sanitaria sono riscontrabili punti di eccellenza, vedi per esempio la chirurgia toracica all'ospedale San Paolo, ma sono numerosi punti oscuri come dimostrano le vicende dell'attenzione della magistratura, emblematica di un altro flop della regione, la vicenda dell'oncologico. Se ne annuncia l'apertura da anni, ma si assiste all'inviso l'invio, è possibile capire cosa succede, quali sono i problemi, c'è chi lema contro, come se ne esce.